salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi voglio portarvi sul canale un piccolo video semplice ma per segnalarvi appunto una regolazione video che ha il piccolo dji mini 2 che ha l'air 2 ma che non aveva il mini 1 quindi andremo a vedere come regolare la qualità video dei quick shot sì perché è una cosa che tanti probabilmente non sanno soprattutto magari chi ha appena acquistato un mini 2 che ha le prime esperienze con la dji fly quindi proprio le prime esperienze in generale nel mondo dei droni non sa che all'interno dell'app dji fly possiamo andare a regolare il quick shot o meglio la qualità video dei quick shot che di default sono impostati a 1080p cioè noi potremmo andare impostare la qualità di registrazione video diciamo classica del drone in 4k 30 fps ma quando andremo a selezionare un quick shot quindi di fare una qualsiasi funzione di volo automatica che ci offre appunto la dji fly per questo piccolo drone avremo impostato di default la risoluzione a 1080p non più in 4k 30 fps come l'abbiamo impostata nella registrazione video chiamiamola standard e questa scelta la capisco perché comunque i quick shot possono essere dei semplici piccoli video da condividere subito sui social quindi ovviamente la risoluzione ideale per essere un video condivido sui social è 1080p quindi di default ok ci sta però una cosa che non riesco a capire perché dji abbia implementato la modifica della risoluzione video o meglio l'opzione della risoluzione video da applicare ai quick shot solo una volta che il drone è in volo infatti ragazzi se noi entriamo nell'applicazione dji fly entriamo nel menu vedete che quello che andiamo a vedere è questo ok tutto quello che possiamo andare a regolare è quello che state vedendo però se noi alziamo in volo il drone quindi ci alziamo e decolliamo e andiamo a selezionare quick shot che ovviamente non ci fa comunque selezionare l'opzione quick shot quando siamo a terra ok quindi alziamo in volo selezioniamo quick shot e senza far partire nessuno dei voli automatici disponibili e andiamo sempre nelle opzioni della fotocamera vedete che sono apparse delle nuove possibilità di regolazioni praticamente vedete che abbiamo i quick shot e possiamo decidere con che qualità video vogliamo anche questi quick shot quindi ovviamente se qua adesso selezioniamo 4k 30 fps d'ora in poi avremo sempre 4k 30 fps nei quick shot non è che ogni volta dobbiamo fare questa diciamo procedura per andare a cambiarli rimane ovviamente pre selezionato quello che abbiamo selezionato nel volo precedente però una cosa che non capisco perché dji abbia implementato questa funzione la capisco dal punto di vista di separare le registrazioni video classica da quick shot appunto per il discorso della condivisione online quindi se uno vuole condividere subito è meglio averle a 1080p però non capisco perché questa opzione o meglio questa funzione di selezione della qualità venga disponibile solo una volta in decollo quindi magari tanti manco se ne accorgono quindi tanti magari non se ne accorgono quindi fanno i quick shot normali ok poi magari si domandano come mai la qualità video dei quick shot non è a livello di quella della qualità video che hanno usato per le riprese standard perché ovviamente se dovete fare dei quick shot per essere condivisi sui social ok 1080p ma se dovete fare dei quick shot che dovete integrare nel vostro video che state facendo in post produzione con l'editing video e tutto quindi avere questi quick shot all'interno del video standard che avete creato a 1080p si vede la differenza con quello che avete fatto fino a quel momento quindi dovete fare in 4k a 30 fps quindi ragazzi questo è un piccolo video per segnalare che c'è questa funzione per il mini 2 per l'air 2 stessa cosa ovviamente il piccolo mini 1 non aveva questa funzione cioè lui registrava sempre in 2,7k sia i quick shot che i video diciamo a risoluzione massima che gli andavamo a impostare quindi quick shot e video erano regolati da un'unica risoluzione generale qua vengono separate ve l'ho detto ci sta ed è giusto separare secondo me le due cose ma secondo me dji dovrebbe metterla visibile subito nelle opzioni della fotocamera così che chiunque se ne accorga subito perché secondo me tanti non se ne accorgono subito non capiscono come andare a modificare perché non vanno a pensare che quella opzione viene disponibile solo una volta in decollo e selezionati i quick shot secondo me andrebbe messa disponibile e visibile sempre così uno quando è scuriosa all'interno dell'applicazione va a regolare la fotocamera nota che c'è anche quella funzione da regolare o meglio quella opzione da regolare e uno magari non se ne accorge mai o diventa matto per capire come deve fare perché comunque secondo me non è intuitiva come cosa nel senso che andare a pensare che c'è un'opzione che si aggiunge all'interno di un menu solo una volta che abbiamo selezionato un'altra voce secondo me queste voci andrebbero messe di default tutte disponibili all'interno dell'opzione fotocamera quindi ragazzi questo era solo un piccolo video per segnalarvi appunto questa funzione perché comunque questo drone è stravenduto in una maniera pazzesca e sicuramente tanti l'hanno acquistato come primo drone non hanno ancora avuto a che fare con la dji fly con il mavic air 2 o con il mavic mini anche se questa funzione mavic mini non c'era comunque diciamo non hanno ancora tanta esperienza con questo drone con i droni dji con la nuova app dji fly quindi tutto questo e magari non se ne accorgono e continuano a fare video a 1080p dicendo magari come mai la qualità di questi quickshot non è a livello del video standard quindi ragazzi spero che questo semplice video riguardante il dji mini 2 e anche air 2 perché comunque l'opzione è la stessa vi sia stato utile se è così ragazzi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità tante curiosità e tanti gadget che arriveranno qua sul canale quindi ragazzi seguitemi su instagram se vi va iscrivetevi al mio canale tegram offerte per sostenere il canale e ovviamente ragazzi però iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo un tutorial una novità una recensione e ciao